Con questa sintesi del Ludovico Baiteli che dice la più alta terra di questa valle è Bagolino, molto insigne per il governo molto profilo e singolare. Ma come mai Bagolino poteva avere questi statuti e avere questa importanza? Perché Bagolino oggi è piccolo ma nella storia è stato molto grande. Vi dico velocemente quali sono i 5 punti che hanno fatto di Bagolino nella storia un paese importante. Popolazione residente, estensione territoriale, paese di confine, lavorazione del ferro e statuti propri. Questi 5 punti hanno fatto della nostra comunità, guardate gli abitanti della valle Sabbia nel 1803. Bagolino 3.508 non c'era un paese che arrivasse a 1.000 abitanti, quindi era veramente il centro della valle. Questa è la valle Sabbia, questa è la valle Trompia, nessuno raggiunge 2.000 abitanti e questa è la popolosa valle Camonica. Quindi Bagolino è stato il paese più popoloso delle tre valli bresciane, Valle Trompia, Valle Camonica e Valle Sabbia. Guardate l'altra nostra grande primato, il territorio di Bagolino è il più esteso di tutta la provincia di Brescia, compreso il comune di Brescia. Quindi Bagolino vanta ancora questo primato, subito dopo c'è Ponte di Leni. Vengo adesso brevemente a questo patrimonio immateriale, il carnevale. Per il carnevale vorrei solo farvi leggere insieme queste due frasi bellissime di Italo Sorghi e Roberto Leiti che vengono a Bagolino nel 1972 e scoprono questo patrimonio straordinario. Il complesso di queste musiche, di queste danze di straordinaria bellezza costituisce già di per sé un fenomeno unico in Italia e con pochi equivalenti in tutta Europa e fornisce un esempio impressionante dell'evento di complessità cui può giungere una civiltà musicale. Non ho una frase da riportare di Bruno Pianta, perché insieme a Leiti e insieme a Italo Sordi che venne a Bagolino, che peraltro è scomparso recentemente. Viene da chiedersi come mai un corpus così consistente, così importante, così bello di musica popolare non abbia lasciato alcuna traccia dei saggi, in quale che tra 800 e 900 si sono occupati di demologia lombarda anche soltanto di curiosità lontana. Vi faccio vedere, questo è il simbolo secondo me del carnevale perché un angioletto dell'altare imbraccia una chitarra battente. Di questa è la chitarra terzina di liuteria popolare e guardate che bello questa proporzione, quindi anche chi ha scolpito l'angioletto ha riportato uno strumento del nostro carnevale. Questa è una chitarra battente che oggi è conservata nel museo di Brescia e vi riporto questa bella frase del nostro storico dove dice «Non ve' paese in cui odansi tanti strumenti e si ami tanto il divertimento del suono come in Valvolino in cui sembra forestiere chi non sa almeno toccarne il modo di suonare gli strumenti a pizzovo». E poi dice che quanto avesse a parlarsi dei carnavaleschi divertimenti se non eccedono i limiti dell'onesto a direi dire non essere un paese che più esulti e goda dei carnavaleschi trituti. Vi lascio con il nostro urbitario che è Orsi di Valvolino, Claudio Orsi il quale con una bellissima espressione sintetizza che cos'è un violino. Anche il violino ha un'anima che è l'analogo del cuore per l'uomo. Questo è un, scusate, ma Claudio Orsi, 81 anni, Ponte Caffaro, di Utahio. Pensate che questo signore costruisce violini e se vede un ragazzo che sta studiando il violino non glielo regala. Grazie, scusatevi.